Siamo tutti i consiglieri del Consiglio Comunale, noi volevamo fare il Consiglio Comunale, lei ha portato la città di Catania per il Consiglio per la regione. Noi siamo tutti i campi gruppi del Consiglio Comunale, il Consiglio è il Consiglio per questa città. E di fronte a Gisenda ha lasciato la città di Catania il Consiglio è il Consiglio, non ho fatto solo pubblicità salendo su una sedia, pubblicità del Consiglio. Noi, per quando devi salire sulle sedie per farsi pubblicità, ciò tra voi, siamo tutti i gruppi consiglieri del Consiglio di Messina e siamo ronati in Cimisface che vengono a dare il Consiglio per la regione. Grazie, grazie. Se non fosse stato per me, ci sarebbe parlato con il Consiglio. Questo vuol dire, questo vuol dire che se ne sento il Consiglio. No, no, adesso basta. In tutto il mondo si è visto Catania e Catania. Bisogna aspettare il Consiglio. Bisogna aspettare il Consiglio. Vengono una barretta e una barcona e fottere in giro per la città. Ma crederebbe che non ci sarebbe. E' il Consiglio. E' il Consiglio. E' il Consiglio. E' il Consiglio. E' il Consiglio.